Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Irradié Non c'est le nu clipur What the fu T'era minuto. Ehi Pepito, tu papà non sta bene, tu papà è crescita, si volvi... Noooo, 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 Hahahaha, I want you to meet my Mexican friend Royer. Ehi, I'm the Mexican. Ehi, I'm the Mexican. Ehi, I'm the Mexican. è la più corretta è la più corretta che ho mai fatto è una mia vita è un'imperi è un'imperi è un'imperi è un'imperi Oumaren Sì, e il mio bambino No 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 Asana Ghead? We're good? Solo, solo, solo on 21 I got Oggon I'm not doing no! I'm not doing no! FUQUICK And cold energy That is insane I need the boots Noi non c'è il suo Sì e il suo Ah ho un'altro Si, 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 si Si, si, si 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 Mi 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 I VITUISU VEC ha 30 anni in Corea Certo? Per un nuovo membro è già 30 anni se obliczili- obliczyliśmy ile nas wyjdzie teledysk, no to wyjdzie ok 10 tysięcy no- no nie mamy takich pieniędzy, żeby wyłożyć tak od-tak na 10 tysięcy na teledysk, który nam się nigdy nie zwróci w dodatku więc gadaliśmy dzisiaj sobie na początku na strumyku, żeby zrobić właśnie taką akcję że po prostu celem na donate, oczywiście nie jest obowiązkowe, jest to jedynie jakby dobrowolne że- Kto chce, to ten może sobie dodać, a kto nie chce to oczywiście nie zmuszam, ani nic ma i top donatori sono stati come sponsor dei teledischi e ho pensato che i top 4 dei più donatori invitano a un plan di teledischi oltre, ciò che stiamo a parlare Noi chiede con me Green wants to Green will make a baby with you, Scarf C'è quello che troviamo abbastanza Do you know the Grammys? Do you know the Grammys? Do you know Are you familiar with the artist Travis Scott? Uh, yeah Well You see, the other night Vitalisy Travis Scott lost Album of the year to Killer Mike Yeah, that's true Yeah, he did We think that's some bullshit, alright? We think that's some bullshit, okay? We think Bro, bro, bro Bro, 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 bro What is that? It's a farm And so they don't have bedding They just have hay because Oh, this is where I like to see you Please never, I wish there was wait In Minecraft so you could not open this trapdoor ever again Attention, my backpack is not locked Well, I'll take it It's not the first time I'm going to kiss here I know Why would you don't make you Why do it I don't do it Because of the nicotine I don't care for it That's what it is I don't care for it Do you want it? Do I take it? helps me To the camera I know I think the downloading I don't care To the Hopper I don't care for it To the scene If you've won't care for it Sì, sì, sì. Sì, sì.